Il Sole è sotto stretta osservazione da parte dello Space Weather Prediction Center della NOAA, agenzia governativa statunitense che si occupa di previsioni meteorologiche, studio del clima e delle dinamiche atmosferiche. A partire dal 7 maggio 2024 infatti un gruppo di macchie solari particolarmente vivace, denominato Regione Attiva 3664, OAR 3664, ha provocato prima un'allerta degli scienziati per possibili brillamenti, poi l'inizio di una tempesta solare, la più intensa mai registrata dal 2003. E quella più potente potrebbe scatenarsi proprio a partire da oggi, durerà tre giorni, colpirà la Terra e potrebbe innescare fluttuazioni della rete elettrica, avvertono gli esperti. La NOAA segnala che la tempesta geomagnetica, un grave disturbo della magnetosfera terrestre, potrebbe interrompere le orbite dei satelliti, causare blackout radio e manifestarsi con spettacolari eventi di aurora boreale. Non dovrebbe avere un effetto diretto su telefoni cellulari o sulle carte di credito, benché le eventuali interruzioni della corrente potrebbero avere conseguenze sul fronte delle comunicazioni. La tempesta imminente è dovuta a una macchia solare attiva che nell'ultima settimana ha scatenato almeno 18 brillamenti. Una tempesta solare, o geomagnetica, è un disturbo del campo magnetico terrestre, colpito dalle particelle ad alta energia emesse dal Sole che rendono elettricamente carico lo strato più esterno dell'atmosfera. A causa di questo fenomeno, le onde radio che viaggiano in queste zone perdono energia a causa di collisioni più frequenti con gli elettroni e ciò ne determina il degrado o anche il completo assorbimento. La tempesta in arrivo si deve all'intensa attività di un gigantesco gruppo di macchie solari, chiamato AR3664, che si estende per circa 200.000 chilometri, dunque 16 volte circa le dimensioni della Terra. Si tratta di una delle regioni più grandi e attive osservate in questo ciclo solare, che è iniziato nel dicembre 2019. La regione è caratterizzata da una grande complessità, con campi magnetici molto intensi che causano una situazione particolarmente instabile, ha spiegato Mauro Messerotti, docente di meteorologia spaziale all'Università di Trieste. È così grande che è visibile anche a occhio nudo, ovviamente sempre con un'adeguata protezione. La classificazione delle tempeste geomagnetiche prevede una scala da G1 a G5, una misura dell'attività geomagnetica globale riferita alle fluttuazioni del campo magnetico terrestre in tutto il mondo. La tempesta imminente, registra l'aeronautica militare italiana, potrebbe essere un'attività che potrebbe arrivare al livello G4 di questa scala e, in termini di effetti, potrebbe causare problemi diffusi di controllo della tensione e dei sistemi di protezione. Alcuni sistemi di rete potrebbero subire un collasso completo o blackout. I trasformatori potrebbero subire danni. In questi casi, inoltre, le correnti nelle condotte possono raggiungere centinaia di ampere, la propagazione radio ad alta frequenza HF potrebbe essere impossibile in molte aree per uno o due giorni, La navigazione satellitare potrebbe essere degradata per giorni, la navigazione radio a bassa frequenza potrebbe essere interrotta per ore e l'aurora potrebbe essere osservata a una latitudine geomagnetica di 40 gradi, come indicato dalla NOAA. Nelle scorse ore sono state osservate almeno cinque emissioni di massa coronale, ICME, acronimo dell'inglese Coronal Mass Ejection, provenienti dalla superficie del Sole e dirette verso la Terra. Le ICME consistono nell'emissione di una piccola porzione di atmosfera solare, principalmente particelle cariche, verso lo spazio interplanetario. Le emissioni di questi giorni arriveranno sulla Terra a partire da oggi, calcola l'aeronautica militare, e persisteranno fino a domenica 12 maggio. Se le emissioni che seguono i primi impulsi dovessero viaggiare a velocità superiore, il flusso di particelle cariche potrebbe inglobare, in gergo si definiscono CM e cannibali, quello che lo precede dando luogo a disturbi geomagnetici più protratti nel tempo. Le espulsioni di massa coronale sono conseguenza dei forti campi magnetici intrecciati che caratterizzano la superficie solare e che talvolta inibiscono il flusso di calore in alcune zone, rendendole più fredde e generando così delle scure macchie solari, come spiega Astrospace in un approfondimento. Queste macchie sono spesso associate a intensa attività magnetica e possono provocare delle espulsioni di gas caldo ionizzato, il plasma, dalla superficie del Sole, dette espulsioni di massa coronale. Dal 10 maggio almeno 7 si sono dirette verso la Terra, inducendo lo Space Weather Prediction Center ad alzare il livello di pericolosità dell'evento prima da G2 a G4. E poi nella notte fra 10 e 11 maggio a G5, il livello più alto sulla scala di classificazione di queste tempeste. Eventi che possono provocare instabilità nella rete elettrica e interferenze nelle comunicazioni satellitari e radio. L'attività solare è notevolmente aumentata dall'inizio del mese e tra le varie macchie solari importanti si è formata la regione attiva AR3663, nell'emisfero nord del Sole, che tra il 3 e il 6 maggio ha prodotto una decina di brillamenti. Tra il 7 e l'8 maggio, AR3664 ha raddoppiato le sue dimensioni in Sole 24 ore, diventando grande lo 0.12% della superficie solare. Le tempeste più estreme possono causare blackout diffusi e danni alle infrastrutture terrestri. I sistemi di navigazione radio satellitare a bassa frequenza come il GPS potrebbero essere interrotti e anche le operazioni dei veicoli spaziali potrebbero avere problemi per quanto riguarda la ricarica e il tracciamento della superficie. Starlink, il sistema di connessione di Elon Musk che possiede il 60% dei circa 7500 satelliti in orbita e fornisce coperture internet in tutto il mondo, ha segnalato un servizio degradato a causa dei recenti fenomeni. Nell'attuale ciclo solare, iniziato nel dicembre 2019, sono state osservate solo tre tempeste geomagnetiche intense. L'ultima di classe G4 è stata registrata lo scorso 23 marzo 2024 e quella catalogata come estrema di classe G5 risale alla famosa tempesta di Halloween dell'ottobre 2003, con danni alla rete elettrica in Svezia e Sudafrica. Tra gli effetti spettacolari delle tempeste geomagnetiche rientrano le aurore boreali. Infatti, nelle prossime ore si prevede che i fenomeni aurorali siano visibili a latitudini insolitamente basse, dal Canada al Nord America e Nord Europa.